Le bellissime battaglie, un sacco di sorpassi, è andata benissimo con Lorenzo perché eravamo primo e secondo e lui ha tagliato un po' troppo sul cordolo, gli si è chiuso davanti, ma io avevo già riaperto il gas a 220 all'ora e l'ho preso pieno, fortunatamente l'ho preso bene, solo ho riuscito a non prendergli la ruota ma a prenderlo fra la marmitta, il codino all'interno e quindi forse l'ho anche aiutato a ritirarsi su gli ho dato quella spintarina a 220 all'ora che se no magari faceva più fatica a tirarsi su ecco, si stava già tirando su però gli ho dato la... ma come le giostre la battarina